bella a tutti forniters e benvenuti su leon tube in questo video proveremo a fare questa missione distruggi il nucleo di corruzione e tutti i frammenti di corruzione ci sono queste tre zone intorno alla città dei cubi arrivati in quel punto quello che volete voi troverete questi tre andranno distrutti afficconate anche se non ci riesce diciamo forse non siamo abbastanza veloce dopodiché dovremmo comparire ok ok hanno come energia quindi bisogna essere veloci capisco ecco il fatto che dobbiamo essere veloci poi per fare questo qua e la missione è superata se questo video vi è stato utile cliccate mi piace mi piace grazie mille iscriviti dal nostro canale condividete i nostri video con i vostri amici cliccate la campanina per non perdere i nostri aggiornamenti con questo ci rivediamo in un altro video ciao a tutti e grazie